Sistemi lavici al 100% di sistemi di bombaggio operativi. Occorre monitorarne la stabilità per evitare guasti catastrofici. Quelle pompe ladiche fanno al caso nostro. Sistemi lavici al 100% di sottotitoli. 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 Allora, il tuo piano? Ci sto lavorando. Beh, qualunque sia, basta non finire ammazzato. Bene, vediamo a cosa serve. Sistemi lavici al 100% di sottotitoli. Sistemi lavici al 100% di sottotitoli. Sì! 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 Vuoi inondare la fabbrica di lava?